Bella a tutti ragazzi, siamo qua per arrivare a leggenda ora Cali, leggenda ora Raga, manca ancora una partita Prima in off camera per arrivare a quello Ho trovato quello maestro E questa è la mia squadra Vabbè E' la squadra che vi consiglio, tra cui Plea che ora vi faccio vedere Che bestia che è Sto giocatore Ti prego, andiamo a Road to Legend Penso che vediamo quanto duri sto video perché non me la voglio tenere per le lune Ma vediamo Dai, partiamo subito con i very good gang Ah Vi lascerò Non mi lascerò il link di PewDiePie in descrizione Andate su PewDiePie e lasciate like e grazie Con il sorriso PewDiePie non mi ha dato i soldi Per mia sfortuna Vabbè, ora vi faccio vedere sto Plea Se lo fa lo scemo perché per adesso hanno tutto in off camera Fatto delle robe incredibili Ovviamente è tutto buggato Ora, eccolo Eccovelo Subito così Subito con questa scenetta Alaba Dai, Alaba Schifo Schifo, che fai schifo Fai schifo, fai schifo Plea Dai, Plea Plea, vai Tanto mi devi far segno Dai, segna, segna Cineci Anche Campbell è uno dei migliori Cheat Vabbè, gioca anche lui bene BAM Anche i tiri a giro sono dei migliori Non la perde mai No, solo per alcune volte Anzi, ne portavuota Non c'è più nessuno in difesa C'è PewDiePie Anderson Che è pure Demons The Week Mi sembra Mi sta tornando Ma non sei Siamo in leggenda Siamo in leggenda Robben che ovviamente Tira il palaccio Di Robben Vabbè Siamo in leggenda Torrod Siamo in leggenda Tanto Ah, siamo in leggenda Sto facendo schifo Non so il perché Ma chi se ne frega Sette a quattro E siamo Legenda ragazzi Ma raga Se volete sempre Il video Su Rodin Qui Upgradiamo Lasciate like Quando vedete il video Con i vostri amici Vediamo i premi Riteriamo Sti premiozzi Allora Mi dà Desi riflessi Contrasti 600 gem 500 200 forza Quindi se ne andiamo A vederli tutti Intanto Continimento e attacco Dovrebbe essere Utile 1 Ecco Come avevo Spiegato Vediamo Un po' Che migliorare Oh La forza Per Sule Eh Sule L'errore sconosciuto Sicuro Ci sarà Qualche Problemino Ma A lei non ce ne frega Voglio farvi durare Questo vino Ancora per voi Non voglio Da lasciare Tre minuti Perché sono Già Arrivato Vedete Sule Ora E' a questo Tipo Giocatori Che io non ho Tipo Riflessi Non c'ho Nessuno Poi Contrasti Ciottizi Ciottizi Io me li vado Mi do Perché Sono buono Visione Gonzales Buono 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 Giocatori Che ho provato Per esempio Mi ha fatto Delirio Andiamo Io cosa farei Per la squadra Dell'anno Sono messo Molto bene I miei calcoli Dicono che Riuscirò A prendere Ronaldo Bello Quello Toti Poi Dicendo Lunga Ci sono Questi qua Io Cosa possiamo Fare Facciamo Riscaldamento Allora Possiamo Rischia Io farei Riscaldamento Un pochino Ma facciamo Una versus Attacco Perché ci dice Nel momento Può perdere O vincere Quindi è pericolosissimo Vediamo Perché io Ho molta paura Poi facciamo Anche Eurei di squadra Bello Vedete Così Questo qua È più facile Poi Eurei di squadra E penso Di finire Quali video Vediamo Un po' Niente I premi Sono sempre Gli stessi Ok Proviamo Quelli Che sono A Leggenda Quando sono Forti Io ho paura Paura Molta Paura Paura Ma Tanta Paura Ho quante volte Avrò detto Se volete fare Gli top Boops Di me Grazie mille E io Ve la idea Faccio La reaction Ah E se volete La reaction Lasciate like Sto qua Ci mette In campo Leo Messi Quindi Qui Concentrati Per Non Perdere Perché Se Perdi Sua Scema Per suo Tempo Ok Buono Ma perché Si fermato Quel Demonio Di Ogbon Vai Bravo No Non Tanto Forti Dai Play Play L'abbiamo Già Raccontato Non ho capito Ora Non l'ho mai provata Sta difesa qua Forse è veramente Difficile Ok Dove Ok Dobbiamo fare la prima rete Ora dobbiamo fare le costruzioni Le costruzioni più belle Andiamo Io andiamo Quattro Sto qua è proprio qui Bom Volevi Pure le ho messe Non ci sta dietro Le ho messe Fa schifo Io non l'ho provato Perché Non l'ho trovato Vabbè E non posso nemmeno comprare Ma tu che Sicuro O l'avrai trovato Scioffeca Scioffeca Sei disconnesso Ale 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 Disconnesso Abbiamo 20 GG per noi GG Il rage glitter E boom Questa Partita I Z I Z I I Z Vabbè Spero che ci dacci nei premi Velocemente Mentre app che ridiamo di altri Tifosi Buono E non ho ancora perso una partita Non voglio vantarmi E non fare l'errore di squadra Che da quanto mi sa L'errore di squadra Mi sa fare l'errore di squadra Vedete mi manca chi manca Mi manca da fare una Il Real Madrid E poi passiamo Alla Juve E il Chelsea Hanno squadre potenti Spero di fare bene Vediamo Vediamo un po' Vediamo che bersagli da fare Easy Vediamo Easy Questo video Non ve lo faccio giurare Troppo Ok Stiamo benissimo Vediamo un po' Ok Andiamo Finiamolo Veloce Facciamo velocemente Perché Puoi far veloce Dai Perché devo andare a mangiare Ma vabbè lo stesso Mi ho avvisato Perché io sono a casa di mio amico Ora quindi il video Non l'ho potuto fare Guardate Ti prego No Quello no Quello Ti prego No please No please Ecco Guardate Vi avete visto Quindi Adesso ora Me lo dovete spiegare Nei commenti Vai Guardate Maremma Ok Oh Maremma Oh Maremma Oh Maremma Mio Ok 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 Ci manca l'ultima Ci manca l'ultima Per chiudo Ok Ciao